prodotti che nessuno pensava esistessero davvero sinceramente non so chi l'abbia creata però dopo averla utilizzata visto il contesto non penso che ti farà poi più tanta voglia di mangiare pancare con la nutella costano il doppio di batterie normali e già questo basta avanza per non comprare ma poi chi compra delle pile fashion che poi vanno ficcate dentro un apparecchio manco le guardi solo per i veri malati di Justin Bieber un nastro adesivo con la faccia di Justin Bieber inutilissimo un fantastico tostapane che quando ha finito il suo lavoro ti lancia letteralmente la fetta cioè che serve una stranissima bottiglia d'acqua con una forma che secondo me non serve a nessuno questa penna invece secondo me è molto figa cioè tu la avvicini a qualcosa a un colore e lei praticamente simula il colore che ha appena scansionato credevo fosse una bufala esiste davvero fammi sapere cosa ne pensi di questo prodotto e soprattutto seguimi